Non ce l'aspettava nessuno che arrivavamo da qua. Bene, a qui abbiamo un problema, Sire. Cioè, il cartello è per terra, quindi a chi lo assegniamo? Il signore mi sembra colpevole. Visto, signore. Ma calve? Sì. E lei è colpevole? No. L'ha spostato lei il cartello? Sì. Sì, l'ha spostato lei? Sì. Ma, allora, Sire, qua dobbiamo fare qualcosa. Allora, innanzitutto ti devi alzare perché, eh, re al tu la devi guardare bene in faccia. Poi, preghi, facciamo un applauso al signore. Sire, oggi abbiamo trovato il Sacro Penale! Conduci subito sul palco il servo della gareva, grazie al quale il Sacro Penale è stato ritrovato! Venga, venga, venga! Baci! Pazzo, non è uno scherzo! Ti devi seguire veramente! Poi, da testa a parte, veramente! Poi, da un palco il servo del genere! Applauso! Era ovvio che il Sacro Penale si trova sempre nei cuori delle persone che si riuniscono nel suo nome. E quindi non poteva essere che qui, in questa sala. Come potremmo ricompensare questo umilio contrativo che è stato così fortunato da sedersi sul Sacro Penale? Beh, conducendolo sul palco scenico e facendogli vincere un premio con un'estrazione truccata. Ah, come si usa di solito. Se magari vi faccio un applauso, copriamo questo palco d'ora che ci vuole. Per andare. Per andare. Grazie! Venga, venga! Ti più dobbiamo! Venga, 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 venga! Venga, venga, venga! Venga, venga, venga! Come ti chiami, Carlo? Mariano. Mariano? E poi? E poi? Come? Sì. Dillo. Chiavegatti. Chiavegatti! Chiavegatti! Mariano, chiavegatti! Allora! Questa.